Andiamo a pescare mettendo in mare molti artificiali un trenino di ben 4 artificiali per ogni canna quindi necessiteremo sia nelle fasi di discesa verso il fondo sia nelle fasi di recupero e di salpaggio di eventuali calamari di una notevole ordine nel senso che come vedremo le artificiali vanno recuperati, gestiti e sistemati in maniera che eventuali grovilli siano totalmente scongiurati In pesca i Raptor Eji Hunter sono dei minno caratterizzati da una struttura olografica, delle palline interne vibranti che aumentano l'appetibilità e delle palette che possono essere di due tipologie una maggiormente affondante che posizioneremo in coda sui nostri trenini e una meno affondante più piccola che verrà alloggiata nei primi tre posti del nostro trenino quindi in fondo metteremo l'Eji Hunter con paletta molto grossa mentre sulle altre postazioni posizioneremo degli artificiali con paletta piccola e quindi poco affondanti con paletta piccola e quindi domini Grazie a tutti. Grazie a tutti.